Sull'entrata della passeggiata dell'Isipo di Fano sono numerosi i servizi e le segnalazioni arrivate in questi anni alla nostra redazione tra incuria, pericolosità della rete e della siepe, spazi ristretti e poca illuminazione. Tutti punti a sfavore che non valorizzano questo tratto che conduce fino alla statua dell'atleta nel cuore del porto turistico fanese. Dopo tanto tempo questa mattina l'amministrazione comunale ha presentato la nuova visione di questo camminamento. Come vedete da questo rendering il piccolo ingresso diventerà un largo a tutti gli effetti permettendo un maggior scorrimento sia in entrata che in uscita. Un progetto realizzato grazie alla collaborazione del Fano Marine Center dell'Università di Bologna che ha concesso una porzione di terreno per ampliare l'accesso. Questo ingresso diciamo sarà caratterizzato da una sistemazione a verde, da una piantumazione di alberi, arbusti e di piante fiorite con la realizzazione di 130 metri lineari di recinzione in lamiera stirata in acciaio e quindi diciamo un tocco di modernità, di contemporaneità nel nostro diciamo lungomare e insieme a questa lamiera stirata avremo anche la realizzazione di un nuovo ingresso al laboratorio di biologia marina e questa lamiera sarà colorata blu come diciamo è il laboratorio e blu come sono i termini diciamo il riferimento al mare insomma sostanzialmente. Sarà realizzato inoltre la pubblica illuminazione quindi cinque pali della pubblica illuminazione, la realizzazione di arredi e la pavimentazione in ghiaia disattivata proprio come diciamo la darsena borghese. Il costo dell'opera è di 220 mila euro, 20 dei quali messi a disposizione dal Fano Marine Center. In un secondo momento nell'area del laboratorio di biologia marina verrà realizzato un infopoint ovvero un piccolo spazio dedicato all'informazione turistica con le tecnologie multimediali. Stiamo cercando di recuperare dei luoghi non vissuti, rigenerare uno spazio significa proprio andare a lavorare dove quello spazio prima non aveva vitalità, oggi lo avrà. L'ingresso dell'Isippo presto, anzi perso proprio per primavera, avrà la sua visitabilità perché naturalmente potranno fruire più persone favorendo tutto quello che è un luogo anche di nuova socialità perché appunto le persone potranno anche sostare, sostare verso una passeggiata che per noi ha un'identità assoluta. L'Isippo per noi è un simbolo, è un simbolo della città dal 1964 quindi noi abbiamo sempre più bisogno di creare un'interconnessione tra quello che è il mondo della cultura che ci appartiene con quello che poi è la fruibilità di questi spazi.